Intanto con Angelo Bonelli vorrei tornare proprio sui temi a voi più cari e ovviamente di grande attualità politica, i temi dell'energia, perché sappiamo che c'è una grande emergenza, c'è una situazione d'emergenza dettata dalla guerra, ma non soltanto, c'è chi per affrontare questa emergenza nel breve periodo, sappiamo che la transizione ecologica ovviamente è un obiettivo ed è un obiettivo anche europeo, ma c'è ovviamente una situazione contingente da affrontare, c'è chi propone varie strategie, il nucleare pulito, altre formule che per voi non sono applicabili, però le chiedo, per la transizione energetica che si chiede i tempi sono lunghi, voi come chiedete di mettere mano all'emergenza energetica che dobbiamo affrontare in questo momento e che apparentemente ci fa fare anche dei passi indietro sull'obiettivo della transizione ecologica, per avere i risultati adesso intendo. Guardi, le dirò facendo delle proposte e quindi non parlando per slogan, noi dobbiamo assolutamente garantire la tenuta del nostro sistema economico e industriale che ha bisogno di energia, ma anche dobbiamo garantire la tenuta sociale delle famiglie del nostro Paese. Noi stiamo vivendo una situazione drammatica che è data da questo dato che sto per dire, il primo semestre del 2022 l'Eni ha conseguito un utile del più 670% con oltre 6 miliardi di euro di extra profitto di fatto. Ecco, in questo dato c'è proprio la profonda iniquità sociale. Quando arrivano le buste delle bollette energetiche a casa delle famiglie, sia quella del gas o dell'elettricità, oggi c'è un'ansia totale che aggredisce, prende, coinvolge queste famiglie perché ci troviamo di fronte alla quintuplicazione. Cosa fare quindi? Noi abbiamo una necessità urgente che se non si trova un accordo con il Consiglio Europeo l'Italia deve fare come la Spagna e il Portogallo e mettere un tetto al prezzo del gas e riportare il prezzo del gas a quello pre-crisi. Questo porterà serenità e anche tranquillità nelle piccole e medie imprese. Come dare la copertura finanziaria a questo tipo di operazione? Certo che gli extra profitti che il governo Draghi ha calcolato in 40 miliardi di euro devono essere restituiti per garantire questa copertura e per raggiungere questo obiettivo. La norma è stata scritta male dal ministro Giorgetti e dal ministro Cingolani e va riscritta. Seconda questione, ripeto, gli extra profitti vanno restituiti. Terzo, però nel momento in cui noi costruiamo, diciamo, dobbiamo dare una risposta e il gas in questa fase è necessario, dovremmo anche evitare di esportarlo, perché io lo voglio dire a Cingolani, perché secondo i primi sei mesi del 2022, non so se i cittadini e i cittadini italiane che ci stanno vedendo lo sanno, noi nei primi sei mesi abbiamo esportato all'estero, non ce lo siamo tenuti, 2 miliardi di metri cubi di gas, perché ovviamente fa comodo e le società che lo distribuiscono fanno più utili. Ora, se c'è un'emergenza quel gas deve rimanere in Italia e quindi è necessario costruire una strategia energetica che punti sulle rinnovabili come hanno fatto i tedeschi. I tedeschi al 2030 hanno detto che il loro fabbisogno elettrico sarà soddisfatto all'80% delle rinnovabili. Questo abbasserà drasticamente il costo dell'energia, quindi da un lato dobbiamo gestire l'emergenza, ma dall'altra parte dobbiamo costruire il nostro futuro. Però dal punto di vista del reperimento delle fonti energetiche in questo momento, come si fa se in qualche modo dobbiamo mettere una barriera alla Russia? Ma è quello che sta facendo in parte il governo, ovvero stanno riempendo i nostri siti di stoccaggio che arriveranno a ottobre al 90%, dobbiamo fare un lavoro molto forte. Noi in tre anni, per esempio, secondo tra l'altro è un'associazione di Confindustria, Elettricità Futura, dice che è in grado in tre anni di installare 60 gigawatt di energia con investimenti per 85 miliardi di euro che venirebbero dal privato. Il punto però è che gli impianti fotovoltaici ed eolici sono fermati per dei no che sono assolutamente inaccettabili. Noi dobbiamo fare delle scelte da essere rigorosi. Da un lato dare un contributo alla lotta al cambiamento climatico. Guardi che quello che... Io sono veramente incredibile, sono esterefato dal fatto di come il dibattito politico sia scollegato da quello che succede nella realtà. Ieri a Scilla c'è stato un disastro. Stromboli c'è stato un disastro. Alcuni giorni fa nell'Irpinia c'è stato un disastro. Fiumi di fango hanno inondato quelle città. Cioè il tema del cambiamento climatico. Siamo passati dai fiumi che si sono trasformati in corridoi di sabbia, la desertificazione e eventi meteorologici così estremi. Quindi dobbiamo assolutamente accelerare in politiche climatiche rigorose, puntare sulle energie rinnovabili e gestire questa fase per dare una risposta ai cittadini che non possono pagare le bollette energetiche a quel livello. È inaccettabile sul piano sociale. Noi abbiamo fatto una proposta, che è quella che ho detto prima, tetto al prezzo del gas e restituire integralmente gli estraprofitti alle famiglie, alle imprese.